Signora, il numero di vigili urbani a Venafro è sufficiente? No, non è sufficiente, ci vogliono ancora di più. Ma per quanto la cittadina è tranquilla, i vigili vanno bene così, certo, il di più è sempre buono. Insomma, di più è meglio, regola generale che in particolare vale per l'organico della Polizia Municipale di Venafro. Da anni sottodimensionato, ora è addirittura ridotto all'osso. Dei tre agenti in servizio, due si alternano sul campo, o meglio, in strada, con compiti di sicurezza urbana e ordine pubblico. L'altro in ufficio con un ruolo amministrativo. Troppo poco per una cittadina di 12.000 abitanti e per tutte le altre incombenze. I caschi bianchi hanno anche mansioni di polizia giudiziaria, stradale, edilizia ambientale e tributaria. Nei prossimi mesi il Comune bandirà il concorso per l'assunzione di un nuovo agente. Prima, però, c'è da espletare le procedure in corso per l'assunzione di altre due unità. Una, part-time, attinta attraverso procedura di mobilità. Vigili in servizio altrove che chiedono il trasferimento. L'altra, individuata, scorrendo le graduatorie di concorsi già chiusi presso altri comuni. La ricerca è stesa anche alla provincia di Campobasso. Insomma, alla fine, l'organico della Municipale del Comune di Omedeo sarà quasi raddoppiato. Niente di paragonabile ai tempi in cui il personale inorganico ammontava una decina di unità. Ma comunque un bel rinforzo, l'auspicio che avvenga in tempi ragionevolmente brevi.